Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere come acquistare ed importare un file MTA all'interno del vostro hardware MLive. I file MTA sono acquistabili dal sito SongService solo dai possessori di Merish 5 Plus, Merish 5 Xintia 2, Divo Plus, Pro e Bibit. Per acquistarli dobbiamo recarci all'interno della nostra applicazione di riferimento, nel mio caso nel Bibit Manager, e fare il login con le stesse credenziali con cui ci siamo registrati all'interno del sito di SongService. Entriamo nella sezione multitraccia e acquistiamo i titoli che ci servono per la nostra esibizione live. Dopo aver effettuato il pagamento, scarichiamo il file zip ed estraiamo il file con estensione MTA. Apriamo il Bibit Manager e trasciniamo il file MTA all'interno di questo riquadro. Da qui possiamo accedere a tutte le potenzialità che i file MTA offrono, mutando, isolando o modificando i volumi a nostro piacimento. In un contesto live possiamo farlo anche all'interno di Bibit, cliccando in Menu Edit Tracks.